Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 22 giugno, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 7 versetti dall'1 al 5. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli non giudicate per non essere giudicati perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio o come dirai tuo fratello lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nel tuo occhio c'è la trave ipocrita togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Nel Vangelo di oggi troviamo la continuazione del discorso di Gesù che viene ricordato come discorso della montagna. Si tratta di un discorso programmatico di tutto l'insegnamento di Gesù e che si estende per ben due capitoli dal 5 al 7 del Vangelo secondo Matteo. Si tratta perciò del discorso che stiamo ascoltando già dalla decima e l'undicesima settimana del tempo ordinario in cui abbiamo meditato i capitoli 5 e 6 del Vangelo secondo Matteo. Oggi iniziamo a considerare il capitolo 7 che fornisce i criteri pratici per attualizzare le beatitudini nella vita quotidiana delle comunità cristiane e quindi anche nelle nostre vite. Potremmo dire che questo Vangelo ci offre i criteri per evangelizzare le nostre relazioni. Ecco allora oggi meditiamo il primo criterio che Gesù desidera consegnarci affinché possiamo praticare il suo insegnamento e il primo criterio è questo non osservare la pagliuzza nell'occhio del fratello. Perché? Perché questo ci è di intralcio al regno di Dio. In realtà questo testo non dice che dobbiamo far finta di non vedere ma ci fa comprendere che se ci soffermiamo sui piccoli difetti degli altri noi non andremo mai avanti nella fede in Dio perché ci mettiamo noi al posto di Dio e pretendiamo di vedere certe cose che solo Dio può vedere nella verità. Vi racconto un aneddoto personale. Un giorno una suora di clausura mi raccontò che una consorella del suo monastero non seguiva più le preghiere e un giorno chiese anche di andare via dal monastero e tutte avevano pensato di lei che avesse trovato qualcosa che non andasse nel monastero e tutte le monache chiedevano perdono costantemente l'una all'altra per un atteggiamento, per una parola detta, per un pensiero di sfiducia. Insomma pensavano che fosse a causa di un loro cattivo esempio che la consorella fosse andata via dal convento e invece poi dopo qualche mese vennero a sapere che questa loro consorella portava già da alcuni mesi prima una grave malattia per cui non poteva muoversi, non poteva più restare in convento con le altre e nella sua casa vediva invece assistita da qualcuno della sua famiglia e offriva la sua sofferenza pregando giorno e notte per tutte le altre sorelle che nella preghiera ringraziava ogni giorno per l'esempio di vita che sono state per lei. Ecco questo è per dire che tante volte ma veramente molto spesso anche noi facciamo questi giudizi, facciamo presto a giudicare gli altri, le situazioni e preghiamo anche perfino per le idee che ci siamo fatte noi su qualcuno senza verificare la realtà dei fatti e tante volte certe situazioni non è dato nemmeno a noi di saperle ed è bene che sia così. allora oggi di fatto il Signore ci chiede questo favore, non mettere in atto dinamiche o comportamenti che sono di fatto interpretazioni nostre sulle persone o sulle situazioni. Questo perché? Perché queste persone siano sante o peccatrici non importa per lui, per Dio, ma è importante ed è fondamentale per noi eliminare i preconcetti e i nostri giudizi che facciamo sulle persone o sulle situazioni. Cosicché i nostri pensieri, i nostri giudizi, le nostre azioni e quindi anche la nostra preghiera per certe persone e certe situazioni siano veramente trasparenza dell'amore di Dio senza distorsioni della realtà, senza interpretazioni aggiunte, personali, senza macchia di sospetto che sono macchie inutili. Chiediamo al Signore allora in questo giorno che ci troviamo a vivere su questa terra, un giorno di grazia in più, ecco, la grazia della trasparenza che nasce dalla totale fiducia negli altri e che si radica in una profonda relazione con Dio che è padre di tutti e che è il solo a conoscere tutto di tutti nella verità. Buona giornata!